salve io mi chiamo valentino e oggi parleremo della cucina del sud italia il mio compleanno di classe julian ti spiegherà la cucina del sud e l'importante storia e significato che c'è mentre cerco di cuocinare alcuni esempi per voi prima di mostrarvi i primi piatti di oggi vediamo cosa ha di dire julian sulla cucina di sud italia come ogni zona d'italia la cucina del sud si riflette nella geografica così per gli antipasti nel sud troverai piatti come fromaggio romano antipasto di aglio e peppe tapenade di olive nero scarola filetto di acciughe piatte soppressato dolce e piccante olive castelvetrano insalata di rocotta calciofi e bruschetta ai peperoni arrostiti la geografia e il clima del sud è meglio per coltivare verdure rispetto al nord perché il clima è caldo e la geografia è collinare quale è ideale per verdure e gli olivi anche il sud è sulla costa ed è circondato dal mare quindi è buono per pescare cose come le acciughe per iniziare prepariamo un semplice antipasto a base di prosciutto cotto spennellato con olio di oliva siciliano con sopra parmigiano reggiano grattugiato e servito con olive nere i primi piatti del sud italia sono principalmente pasta per esempio pasta alla norma pasta con i tanirumi pasta con i broccoli ariminati pasta con le sarde pasta in casciata e nel letto al forno pasta con la zucchine fritta pasta al nero di sepia o pasta camudica addurata tipicamente questi piatti coinvolgono un tipo di pasta e una verdura o verdure e forse anche un tipo di sugo le verdure e i sughi di questi piatti sono supportati dalla geografia e il clima del sud perché la geografia è collinare e il clima è caldo che è buono per coltivare le verdure e i prodotti necessari in questi piatti come primo piatto facciamo un semplice pasta con le melanzane si inizia prendendo la pasta e mettendola in acqua bollente iniziamo a tagliare una melanzana a cubetti lo mettiamo in una ghiottola aperta lo mescoliamo con il nostro sale e lo lasciamo fuori per dieci minuti mette le melanzane in una padella larga a fuoco medio con l'olio di oliva e aggiungete un po di sale e oregano nella padella metti la tua terza tazza dall'acqua nella padella a fuoco medio e cuoci per circa 20 minuti mentre l'acqua evapora dalla padella a questo punto la vostra pasta dovrebbe essere pronta passatela al scolapasta e aggiungetela alla melanzana per finire il vostro primo piatto il nord e il centro italia hanno i loro dolci ma i dolci del sud sono molti più numerosi e ricchi quattro tradizionali desert del sud sono la baba icono gli siciliani la granita e la carta date la baba è un ricco desert spesso servito con crema o crema pasticceria e si trova principalmente a napoli perché molti chef francesi sono andati a servire questo desert alle famiglie aristocratiche del regno di napoli i canoli siciliani sono un desert crocante cremoso molto ricco e dolce e si trova principalmente a sicilia le carata date sono un desert dolce e crocante che sembra una piccola corona finalmente un altro desert è granita o granita siciliana quale un desert semi congelato è molto dolce ed è fatto da zucchero acqua e aromi diversi questo desert è simile a un gelato ma è molto più grossolano è una consistenza diversa come un semplice desert che possiamo fare a casa con ingredienti che comunque ha stiamo facendo una granita al cioccolato inizia tagliando il cioccolato fondente in una pentola a fuoco medio unisce le tue 3 tazze di acqua e metà tazza di zucchero dopo aver mescolato aggiungete il cioccolato lentamente lasciate cuocere a fuoco medio per un po svuota il cioccolato in una ghiottola e congelalo per la notte la mattina successiva dovete grattugiare il cioccolato con una forchetta in modo da formare dei ricci fiocchi di cioccolato pronti da mangiare grazie per aver guardato il nostro progetto sulla cucina del sud italia arrivederci